Allora, quando mi... praticamente... quando ho deciso di non... di non avanti... no... Allora, quando... arrivano ultimamente, arrivano tantissimi... la tirata, che cazzo! Cazzecini! 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 Dai, io no, no! No, no! Allora, quando si scopa, no? Quando si scopa? Eh! Per terra! Per che senso? La donna dove è proprio sotto, no? La donna che fa? Dove! che fa? Scavacca. Scavacca! 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 Scavacca col... conferences E' postii spino che fa? werkica! La donna quando sta sfranzando che vaTIONA! Scavallo! E' postii spino che faito! Scaloffa, gustii... Mesmo a posti spino!!! Scaloffa, force? Come stai? Era direttissimo, era di gatti quando ricevevi il video! E la tua gliava di mani come lo diceva! E ora, è un sacco di tassi di gagna! E' un macchino, la faccia di gagna! Ma con questo è un sacco di tassi di gagna? E' una cosa di tassi di gagna? La cosa? Vabbè, la trilla e il dicevo il mare? E' un sacco di tassi di gagna! Allora, questi giorni che siamo qui ci chiamano...